E' completamente privo di realismo che la Germania, che attraverso tutta la serie di pronunce che vi ho detto, ha affermato esplicitamente questo. L'Unione Europea è solo un'organizzazione fra stati. Come tale non potrà mai sfociare in un'unione politica, federale, di bilancio, eccetera, eccetera, perché questo non è consentito dalla nostra Costituzione. Sarebbe un atto extra costituzionale per voi, quindi non si fa. Quindi non credo che ci sia qualcuno che oggi può imporre ai tedeschi di mutare addirittura la loro Costituzione per poter mutare un atteggiamento negoziale riguardo a modifiche che loro vedono giustamente come a sé sfavorevoli e che sono modifiche delle norme che loro hanno considerato essenziali per entrare nel trattato. Ve le cito tre, che spesso sono trascurate, sono gli articoli 123, 124 e 125 che non dicono che non si possa fare soltanto un'Europa solidale con il bilancio federale. Non dicono soltanto questo, dicono che è vietato, è il divieto più assoluto, specificato in tre lunghe norme sulla base del quale la Germania non avrebbe neanche aperto il negoziato per entrare in Europa. Grazie.